Ciao, ciao a tutti, un bacio a tutti, sono qui in questo luogo di perdizione in compagnia del mio piede che si muove un pochettino e vi saluta. Sono seduta perché ho la schiena a pezzi, non riesco a stare in piedi, cioè essere seduta per me è in piedi per più di 10 minuti. E' così, passiamo il tempo, facciamo un video leggero, dai su, dei regali del mio compleanno, allora io ho compiuto gli anni l'11 settembre, il 15 mi sono sfruffata per terra e di conseguenza i regali che io ho ricevuto non ne ho potuto fare il video. Allora, siccome c'è Giulia che giustamente dopo un mese e mezzo mi dice mamma posso prendere i regali che mi sono stati fatti, loro ho fatto guarda mammi portami i regali, così facciamo il video e questa busta te la prendi tu perché questi due sono i regali di Vincenzo. Vincenzo, yeah, Kenny Grafic lo scriverò sul titolo e se qualcuno mi fa la gentilezza di mettermi il link perché io sono col cellulare e non riesco a mettere i link, ve mando un grandissimo bacio a chi lo farà. Il canale di Kenny Grafic, mi raccomando Vincenzo, oppure Vincenzo stesso, metti il link al canale amore, tu scrivi commenta, mandami dei baci stratosferici e poi metti il link tesoro, così tutti vedono. Lui non voleva che io facessi il video, questo ci tengo a dirlo perché mi ha scritto anche la lettra dicendomi no, il video no, però ho detto mo, sono talmente belle queste cose, fammice fare il video, fammle vedere queste cose, famle condivide, no? E quindi questo è il video, yeah, sono troppo contenta, così incomincio un attimino, cioè Giulia si prende le sue cose perché Vincenzo c'è il compleanno mio, però ho pensato anche a Giulia, quindi Vincenzo che te devo dire? Te amo troppo, te voglio troppo bene, questa cosa sta andando avanti, da quando è che ci conosciamo Vincenzo? Dall'anno scorso, abbiamo incominciato molto piano io Vincenzo, molto piano, molto lentamente, proprio perché a me le cose fatte d'impatto, forte se bruciano, punto, se bruciano, non c'è niente da fare, invece le cose che nascono lentamente si costruiscono. Abbiamo costruito un bel muro in cui ci siamo noi, in cui c'è lui e la sua famiglia, ci apprezziamo, ci vogliamo bene e questo per me è la gioia più grande. Vincenzo è una di quelle persone che mi ha regalato YouTube, quindi lo porto proprio con me, sempre Vincenzo, sempre. Allora, adesso vi faccio vedere, incominciato al mio, dai fatevi incominciato al mio, però prima devo mettere sto polulare che vedete qui nel trespolo, che adesso che ce l'ho in mano vi faccio vedere. Allora, questo qui era quello del, come si chiama, non fate caso, questa è la tenda, l'ho dovuta ricciare così perché i gatti ci si arrovellano sopra e si arrampicano e io dal lato del mio letto non riesco a farli scendere perché non ubbidiscono quegli zozzoni che se li piole in mazzo. E quindi, onde evitare, omicidi, suicidi, patricidi, genocidi, calvari, Giulia Rire, abbiamo tirato sulla tenda, onde evitare, quindi la tenda è su, eh, mi dispiace, è su. E che ve volevo dire? Niente, questo era quello dell'Ikea, vi ricordate questa cosa telescopica che si tirava su, si tirava su, era a sette metri del nastro, niente, si è rotto, quindi questo è fisso. Michele me l'ha incollato fisso, che non si chiude più, si è rotto proprio il traboccolo, cioè questo, si è tolto da questo, spaccando la vide, quindi proprio non ci si può fare niente, Michele ha provato a sostituire, non si sostituisce niente, quindi l'ha incollato. Lavoro certo, Zin, l'ha incollato, ecco, vedete, c'è tutta la colla sotto e via, quindi a posto, volevo farvi vedere questo perché tanto dico, questo era quello, il traboccolo del, come si chiama? E' il Tiger, Erika, che vuoi dire? Il traboccolo del Tiger e si rompe, sette euro, buttate al ciufolo. Prima di tutto però, prima di incominciare, prima di parlare, prima di iniziare questo video, voglio salutare una mia amica. Tu dici, Erika, avevi detto che non saluti più. Alte, no, non saluto più, ma io lei la devo salutare, non perché mi è più o meno simpatica, ma perché è una bambina coraggiosa e io le bambine coraggiose, che non si fermano davanti alle difficoltà, io non solo le saluto, ma prima o poi, tesoro, ci incontreremo. Sono sicura che ci incontreremo. Questa bambina si chiama Ilaria. La mamma ha detto di pure il cognome, ma io non lo dico il cognome. Diciamo che Ilaria, io e te, siamo due combattenti e di conseguenza, tesoro, dobbiamo uscirne vincitrici da tutta questa situazione. Io ti sono vicina. Giulia, saluta Ilaria. Ciao Ilaria. Ti saluta pure, Giulia. Un bacio grande, tesoro, tanto noi ci sentiamo su WhatsApp. Ti voglio bene. Un bacio grandissimo, tesoro. Mi raccomando, mi raccomando. Allora, incominciamo questo video. Devo mettere il poluler nel traboccolo. Eccolo qua. Quindi adesso io vado a togliere questo. Abbasso un po' il telefonino. Penso che sia la cosa più giusta. Sposto. Scusate, ma è tutto improvvisato. Io non riesco più di questo. Anzi, la gamba mi sta anche reclamando. Allora, vi faccio vedere praticamente. Incominciando da questo. Sono un po' impacciata nei movimenti, ma perché sapete benissimo che la posizione è quella. Cioè, mi ha regalato una tazza. Stupenda. Della legami. E non legami. Io sento le persone che dicono legami. Ma può essere in cartoleria, in libreria. Legami. Legami. E strozzami. L'ho già detta sta cosa. Non è legami. Sono legami. I legami. Le unioni. Sono legami. Non sono legami. Capito? Cioè, questo. Perché l'ho sentito da più una persona. Ma io ho capito che uno dice legami e strozzami. No. È legami. Non legami. Cerco di far capire. Non c'è uno sfondo, un doppio senso. Sono legami. Non sono legami. Capito? Questo io cerco di... Eh, Giulia ride. Così. Allora, questa tazza della legami. Ma questo se può tirare a sto picciolo? È il pezzo di sì. Eh no, questo se può tirare a sto... Ah, ecco. A posto. Ecco qua. Io non mi vedo, però sono inquadrata. Quindi vado avanti. Questo è... Allora, cerco di tirarla fuori. Perché ce l'avevo fatta. Eccola qua. No, guardate che meraviglia. Yeah, che bella. Amore. Guardate che meraviglia. Bellissima, Vincenza. Questa storia che per uscire bisogna togliersi il pigiama, deve finire. È la storia della mia vita, Vincenzo. È la storia della mia vita. Bellissima. Questa è stupenda. Ci farò colazione, anima mia. Adesso che mi rimetto in piedi, assolutissimamente sì. Perché adesso è praticamente bevo acqua e buonanotte. Però questo dopo... Io lo rimetto a posto nella stanza creativa. Invece Giulia si mette tutte le sue cose in ordine. Ora, questo l'appoggio qui. Non so manco da che parte. Oh! Poi... Vabbè, questa è stupenda, tesoro. Quando mi riprendo e mi rimetto, la faccio assolutamente. Questa qui... Ah! Ecco, io lo so che cade, perché non si può girare un video, Erika, conciata come sei. Ma come faccio? Come state? Così? Ma mi pare tutti storti così. Vabbè, state così. Questa praticamente è una copertina. Lì mi c'ha scritto... Aspetta, com'è che è? Ah, eccola qui. Fai una Midori, mi c'ha scritto. A me parte che sti post-it a me mi piacciono tanto. Questi me li tengo. Amore. Così, guardate che bella. È molto particolare. È un po' militare, ma a me piace molto. Mi piacciono molto come colori. Guardate che bella. Ci faccio una bella Midori. Guardate che meraviglia. Vera pelle, questa qui. Mmm. Buona. Vedete com'è fatta? Poi questo, se tanto mi dà tanto, si dovrebbe aprire. Non si apre? Credo. Sì, se dovrebbe aprire per forza. Comunque questa qui, bellissima. Troppo bella sta cosa. Questa mo' ce faccio la Midori. Questa ce la faccio. Guardate che bella. Ma un tesoro è. Ma queste erano tutte cose impacchettate, eh. Sono io che le ho aperte. Poi invece è successo quello che è capitato e non sono riuscita a fare più niente. Adesso tiro fuori un po'. Ecco, vediamo un po'. Poi, sempre della Legami, no Legami, Legami. Questo segnalibro. Un giorno sarai abbastanza grande per rinunciare. Cos'è? Un giorno sarai grande abbastanza. Ah, da ricominciare. Erika. Ricominciata a capo, dalla prima elementare. Un giorno sarai grande abbastanza da ricominciare a leggere le favole. Bellissimo, tesoro. E questo qui è un segnalibro. Vedete com'è? Va inserito. Se vede... Sì, se dovrebbe vedere. Praticamente va inserito nel libro. Se vede un pippo, Erika. Eccolo. Va inserito nel libro e serve per tenere il segno. Questa cosa mi piace infinitamente. Poi è viola così. È stupendo. Quindi questo a me piace molto. Poi, che carino per la spesa. Amore che sei. Sempre della legami, signore, signore. Non legami. Praticamente questo va attaccato al frigorifero. Ah, vai a prendere pure questo, Giulia. Perché questo pure è un regalo per Michele. Eccolo. C'era il... Poi stitte pure per Michele. Questo qui è calamitato. Questo si attacca al frigorifero. C'ha la sua matita. Ed è una cosa stupenda. Questo io non l'ho aperto. Perché in teoria non ho avuto tempo di fare niente. Perché mi sembra che il pacco di Vincenzo sia arrivato giovedì. I quattordici, mi pare. Dopo il mio compleanno è arrivato. Mi sembra... Io il quindici mi sono cascata. Il quindici di settembre. Quindi non sono riuscita a fare niente. Questo è chiuso. E la telecamera casca. No, non si può fare un video così. Perdonatemi. Cioè scivolo proprio completamente. Ma... Questa la volevo proprio condividere sta cosa. Ma io dopo ho tolto un po' e stessa. Dopo faccio vedere. E non si apre. Questo dovrebbero essere tutti fogli rosa. Comunque questo. Questo c'era un po' e stette. Uno e due e uno di Giulia. Perché praticamente ci ha fatto scegliere due tipi di cartoline. Questa è la fine del mondo. Dammi Giulietta. Brava. Ma non si è bella. Quindi questo. Guardate che meraviglia. Alice in Wonderland. Aspetta che tolgo il flasco. Perché non mi fa vedere bene questo. Ecco qua. Alice in Wonderland. È stupenda sta cosa. Ma vabbè. Non si può capire. Adesso io questa. No, vabbè. Questa la devo far vedere vicino vicino. Alla sua busta. Ditevi voi se non è fantastico. Ma non ci pensa che diceva che pensavo che erano poi scritte. Invece no. No, no. Eh vabbè. Non abbiamo mai visto la cosa del genere. Io non l'ho mai vista qua. Quindi è normale che uno si può anche sbagliare. Ma a me non te devi preoccupare. Dice Erika. Ma che è sta cosa? È questa. Questa si tira su. Preparatemi. Bellissima. Vada. Ma è bellissimo. Yeah. Ma non è possibile. È stupendo. È bellissima sta cosa. Guardate che bello. Eat me. Drink me. Cioè. Ma sono stupende queste cose qua. Praticamente è una cartolina. Una per me. E una per Giulia. Che dopo andremo a vedere cosa le ha messo. Cioè tu devi sapere Vincenzo. Che questa sarà quando io risistemerò tutto. Perché la mia stanza creativa. Adesso che io non piloto più delle situazioni. Già era un casotto prima. Adesso è diventato proprio un porto dei mari. Gente che va. Gente che viene. Gente che scende. Gente che sale. Gente che rimane. Gente che se nasconde. Resta il fatto che è un casino. E quindi adesso che rimetto a posto tutto. Poi quello lì lo risistemo. Poi non è finito. Perché lui non si è contenta. Capito? Lui deve andare oltre sempre. Questa è la sua creazione. Amore. 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 Dove si dà Erika? Eccolo qua. Questo l'ha fatto lui. Bellissimo. Amore. Io questo ci faccio un bel segnalivro. Yeah. Ci faccio il segnalivro. Questo l'ha fatto proprio lui. È un prototipo. È un lavoretto che lui ha preparato. E me l'ha regalato. Amo queste cose io. Quindi il mio unicorno personale. Poi perché lui non si ferma. Questa è la lettera che mi ha scritto. Ma è privata. Quindi non ve faccio vedere. Niente di niente. Questo è un foglio. Eccolo qua. Kenny Grafic è lui. Yeah. Che bello. Bellissima questa cosa. Lui eh. E poi siccome lui non si ferma. Non si arresta. Aiuto. Siete morti. Tutti morti. Sono tutti morti. Mi sa che si è salvati veramente in pochi stavolta. Andò siete ieri. No. E' tutti morti. Che è successo qua? No. Com'era? Era così. Era così. No. Così è possibile. Era così. Ma non era così. Era così. Mamma mia. Ma se poi c'era un video così. I pazzi. I pazzi girano video così. I pazzi. I pazzi. I pazzi. I pazzi girano video così. Ma questo perché crolla? Il motivo per cui crolla. Qual è? Ma roba che mi si rompa anche il cellulare. E' nuovo questo. No. Sta guerra. No. Ma che ho? Michele mi ammazza. No. Allora. Facce il primo mattino e quell'altro eh. E quello era rotto. Che se ne frega. Allora. Questo qua. Mi ha regalato i divisori della 5. Questo l'aveva preparato lui. L'ha regalato a me. Lo adoro. Questo qua. Settimanale. Queste sono sue creazioni eh. Queste qua le fa lui eh. Lui è un artista eh. Questo l'ha fatto lui. Un lavoro che fece. Un video. Lui ci ha fatto un video. Con questo ci ha fatto un video. Deve essere il secondo. Allora. Il secondo e il terzo video. Lui ha fatto. Ha fatto un tutorial. Come fare questa cosa. Vedete? L'ha preparato lui. E l'ha regalato a me. Cioè. Quell'altro è la gemella. Uno è lo sfondo bianco. Sì sì sì. È negativo eh. Bellissimo. Quindi questo. Adder. Casca della traoda. Poi. Ma cosa ti devo dire? Ah. Questo è il sacchetto. Ma perché c'era dentro tutto. Mi sembra ci fosse dentro. Dentro c'era il gioco. Ah sì certo. Perché questo è il regalo che ha fatto a Michele. È un regalo che ha fatto a Michele. Questo qui. Ha incominciato. Eccolo qui. Vedete? Good World. Della Play 3. Questo è il regalo che ha fatto a lui. E quindi capirai. Michele non era felice. Qualcosa di più. Quindi quello era il Poistit. Poi. A me. Vedete? Questi. Guardate. Lui ha fatto una fiera tipo comics. Queste cose qui. Guardate. Questi sono segnalibro. Che sono disegni fatti da lui. Su carta. Vedete? Vedete? Ecco. E questi sono segnalibro. Bellissime queste cose. Tu sei troppo bravo tesoro. Qua ha detto Michele. Che uno se lo prende lui. Mi ho detto. Scegli quale vuoi. Perché avevo regalato a lui il quaderno quello di Star Wars. E adesso ci vuole mettere come segna pagina uno di questi due. Quindi se lo deve scegliere. E me sono al telefono di casa. Eh scusate. Praticamente. Sono ritornata. Era al telefono. Stavo al telefono. Il telefono era mia zia. Amore. Quindi. Questo. Dopo quando mi rimetto. Che so anche un pochetto più presentabile. Posso fare un video in cui posso. Parlare. Cioè vis a vis che vi faccio vedere. Perché adesso non mi se può guardare. Mi ha riettato il mare praticamente. Faccio girare i treni. Come si vede. Una cosa che non mi se può guardare. Ho da fare dei ringraziamenti. Perché questa situazione mi ha portato. A vedere delle cose in maniera diversa. A rendermi conto di tante cose. Di vederne altre. E purtroppo cose che avrei voluto vedere non le ho viste. Quindi. Diciamo che questa cosa mi ha. Mi ha aiutata. Ecco. Mi ha indirizzato su una strada. Ecco. Questo. Questo. Le persone che mi sono state vicino. Mi sono state ancora più vicino. Le persone che vivo quotidianamente ancora di più. Persone che non mi aspettavo. Che invece. Mi. Mi sono state vicinissimo. Persone che mi aspettavo che ci fossero. Non ci sono state. Quindi. Ho detto. Bah. Però. A volte le disgrazie non portano male sempre. Comunque. Chiudiamo anche sto discorso. Sono Erika. Non esiste. Questo non è un video verità. È un video verità. Non è un video. E questo qui. Allora. Questo. Guardate. Queste sono due. Cioè Giulia praticamente. Quando vede sta pupetta. Impazzisce. No ma questa è famosa. Lui ha riprodotto. Me lo disse una volta. So io. Vincenzo. Che non ricordo. Ti chiedo scusa. Mi spiegò. Questa è una riproduzione. Cioè l'ha fatta lui. Una riproduzione di una pupetta. Se mi sente di pupetta. Penso che mi ammazza. Quindi Vincenzo. Perdonami. L'ha fatta lui. L'ha fatta lui. Questa è la fine del mondo. Cioè io non lo so. Pare. Una foto. Questa è una foto. Vedete com'è. Vedete come passa. Da questo a questo. Cioè. È stupendo. È un artista. Non c'è niente da fare. Un artista. Quando non è un artista. Potrebbero essere copertine per dei fumetti. No. Questa è praticamente. Da faccio proprio un quadro. Che questo è proprio bello. Questo qui vi piace proprio. Quindi adesso. Spengo un attimo. Mi riposto due secondi. Perché non ce la faccio più. E poi rigiro. Intanto metto a posto. E rigiro la parte. Quella con Giulia. Eccoci qua. Ok. Adesso. Passiamo invece. A quello che lui ha regalato a Giulia. Ed è la fine del mondo. Allora. La busta rossa. E non te posso dire. Vincenzo. Lo sai. Quanto gli piace. Quindi questo. Metto le cose qui. Adesso le diamo uno per uno. Prima di tutto. Questo è stupendo. Aprimi. Lui su ogni pacchetto. Aveva messo i suoi posti. Allora. Queste mollette. Sono stupende. Con tutti i capelli. Come fossero. La criniera di un cavallo. Ma Giulia ha detto. No. Queste cose sono stupende. Le tengo per casa. Era mia mamma. Mia mamma vive qui adesso. Va anche. Ritorna anche a casa. Perché ogni tanto. Ritorna anche a casa. Quando c'è Michele. Perché è normale che sia così. Però sta anche qui con me. Perché mi deve aiutare. Ecco. Quindi diciamo che. Sono ritornata in famiglia. Allora. Questo. Ed è la fine del mondo. Stupenda. Questa cosa qui. Questa è proprio bella. Con tutte le forcine. Poi. Stupendo che sei. Gli ha regalato. Questo porta. Sembre della Legami. Stuardi. Legami. Stava a cascare. Però ho topiato subito. Questo portafoglio. Questo. Astuccio. Che sembra. Carta acciaccata. Con tutti i gufetti. E dentro. Cioè. Io non lo so. Tu non te fermi. Non ti arrendi. Quando parti. Non ti ferma mai. Guarda. Una cosa assurda. Guardate che gli ha regalato. Gli ha regalato. Il segnalibro. Dei gufetti. Come l'astuccio. E come quello mio. Quindi con l'elastico. E con la possibilità. Di inserirlo. Nel libro. O così. O così. E poi ha regalato. Due boccini d'oro. Guardate che meraviglia. Yeah. Bellissimo. Questo ho fatto in questo modo. Uno. Te va giocando l'altro. Sì. Sono diversi. Mamma. E questo qui fatto. Come fosse ottone. Praticamente. No. Ortone. Ottone. Questo bellissimo. Poi. Carino che ne è lui. Poi. Gattini. Pucciosi. Per la scuola. Altro post. Guardate. No. Vabbè. Ma che stupendo. Ha fatto i quaderni. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Bellissimi. Uno. Due. Cioè. Quando l'ho visto. Io a bocca aperta. Proprio. Non sapevo se piangere, rido e dire. No. Vabbè. Ma sta scherzando. Vero. Guardate che bello. Sempre a righe. Internamente. Con lo stesso motivo. Esternamente. Cambiano. Guardate. Proprio da faccio la Midori. Bellissimo. Quando gli ho detto. Mamma. Ti dice. Faccio la Midori. Ma guardato. Perché lui. Lei vuole tenerli così. Proprio. Per adesso. Come fosse una collezione. Perché gli piace troppo. Perché dopo. Lei. Quando una cosa gli piace tanto. Ha paura di usarla. Per il verso sbagliato. È una cartomazza. Di tutto punto. E di conseguenza. Lo lascia lì. Fino a quando. Non gli viene in mente. Cosa farne di queste cose. Cioè. Ma sono stupende. Poi. Poi. Uno per te. Uno per mamma. Eccolo l'altro. Post it. Poi. Questo qui. Ah no. Vabbè. Questa è la giostra. Con l'unicorno. Questa volta. Mamma mia. Cioè. Ma vi spiego. Sta storia. Queste due cartoline. Praticamente. Lì le aveva viste in un negozio. Cioè aveva fatto il video. Aveva fatto un vlog all'interno di un negozio. Dove lui si rifornisce. E. Aveva fatto vedere queste cartoline. Io. Ma l'anno scorso. Era o inizio anno. Non ricordo. Allora avevo detto che era la fine del mondo. Io mi avevo detto. Quale ti piacerebbe? Dico. Bah. Se fosse per me. Non lo so. Avevo scelto Alice. Lui ha comprato tutte e due. Cioè. Può essere? Può essere? No. Tutte e due. Anche l'altro. Questa sostra. È per Giulia. Guardate che bella. Bellissima. Spengo. Perché se no. Non si vede. Così. Peggio. Mi sento. Ma forse sì. Vabbè. Insomma. Guardate. Questo si alza. Come l'altro. Che bello. Ma no. Vabbè. Ma queste cose non si fanno. Ma sono troppo belle. Queste fa. Guardate. Le giostre. È bellissimo. Quindi. Vedete poi com'è fatto. E poi dietro. Music box. E dietro si scrive. Ma. Ma queste cose. C'è. Sono proprio da tenere. Non sono da. 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 Dar via. Perché come si fa. Nel senso. Queste cose. A spedirlo. Uno manco si fida. Perché. Sono troppo belle. Uno le compra per tenerle. Ecco. Questo. In questo senso. Allora. Io. Ho fatto. Vincenzo. Ti voglio un bene dell'anima. Lo sai. Lo sai. Queste cose le do a Giulia. Le mie le metto nella stanza creativa. Dentro il sacchetto. Mi allungo. Ho sforzato veramente tanto. Non riesco. Non è stato un video. È stato un pasticcio. Da. C'è un casotto. Io spero che voi possiate perdonarmi. Ma io più di così. Non posso. Il piede. Ve saluta. Eccola qua. Vi mando un bacio. Vi dico ragazzi. Io il 30 di. De che? De. Sì. Settembre. Erika. Trasferiscite. Il 30 di. Che cavolo è? Ottobre. Brava Giulia. Il 30 di ottobre. Io vado a vedere cosa devo fare. Se me lo devo togliere. No. Ve l'ho già detto prima. Spero di togliermi tutto. Io spero di ritornare a una parvenza di normalità. La coincidenza per il giorno di Halloween. Eh vabbè mamma. Se fosse mamma sarà una giornata epica per me. Dopo comunque il 30 ve farò sapere. Ve voglio bene. Volevo ringraziare tutte le persone che mi contattano dappertutto. Sono bersagliata. Tanto io sto sul letto e non posso fare niente. A volte dormo. Sono necchio, bivacco. Me dormo. Mamma mia me dormo. Io non ho mai dormito. Manco quando dovevo dormire. Adesso mi faccio certe penne. Che proprio senza ritegno. Una vergogna. Russo. Ruto. Un casino. Ma c'è. Non me si riconosce più. Non è normale. E il fatto è che non riesco manco a sistemarmi come vorrei. Perché non potendo stare seduta cosa faccio? Da lunga si può fare ben poco. Anche quando ho bisogno di servizi un po' più approfonditi. Con Michele stiamo tre ore dentro il bagno. Usciamo fuori. Che non si sa se è più bagnato lui mollo. Lui molla io. Perché è un casotto. L'acqua che dà per tutto. Un casino. Non ci si può campare così. Bisogna passacce per capire il disagio. Comunque grazie a voi sono riuscita anche a mantenere un contatto con la realtà. Perché non cominciavo a vedere puffi dappertutto. Ti ringrazio Vincenzo. Chiudo tutto. Non gliela faccio più. Sto delirando. Ve voglio bene. Un bacio a tutti. Ciao. Saluta Giulia. Se no ti frusto fino a domandina. Saluta. Fatta sentire. Fatta sentire. Fatta sentire. Ancora di più. Ciao. Ok. Ve mando un bacio ragazzi. Ciao.